visione complessibile pioli is on fire la 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 pioli is on fire la 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 godo come un porco godo come un porco godo tantissimo pioli is on fire il torino e spugna lo stadio san siro 1 a 0 ai tempi supplementari ma ragazzi guardate guardate eccolo qui dire guardate guardate il torino mamma mia il torino ha fatto una partita bellissima ma ha giocato come una vera squadra ma in milano non so come l'ho visto se mangiano molte occasioni da gol pure come giru ma quando cacchio è forte milinkovic sabic è uscito dalla porta ha preso il pallone con il corpo ma ragazzi questa serie torino americano la composta il fronte his is on fire se commiuo così perché ben cori dice la super coppa e adesso l'esame tosto il primo trofeo fatto fuori ora c'è la cendi ha zero scudetto super coppa ragazzi in minder questa sera spiegavano tantissimo ma di fronte ha stato con un bel toro ma anche buongiorno pure a sabato a sette occasioni da gol la difesa quindi si rivela quindi un muro ma perché l'area ancora non si sblocca non so cosa posso dire ma il toro questa era meritato milan fuori agli ottavi clamoroso il toro è approfittato con contropiede il gol era regolare perché è stato visto proprio dal VAR e dopo ha segnato non mi ricordo come si chiama ha portato avanti quindi in granata ma proprio noi di sera per poco abbiamo passato il turno ma abbiamo fatto brutta figura questa sera il torino è uscito fuori adesso ci vanno solo aiutare che esce col monza ma questo è difficile accadrà piolito file la 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 piolito file la 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 la